Fedez dopo il grande successo dell'ultimo concerto al Forum di Asago, ha deciso che non salirà più sul palco per un po' e si dedicherà ad altri progetti Fedez ha fatto sapere che dopo il suo ultimo concerto di ieri sera al Forum di Asago a Milano si prenderà una pausa Dopo questo disco, e questo tour è tempo di una pausa. Mi fermerò per un po'. Fa parte del ciclo vitale Ho tante altre cose in ballo a cui dedicarmi, ha annunciato il cantante.Il marito di Chiara Perrani ha infatti rivelato di avere molti impegni, non solo lavorativi, che lo porteranno oltreoceano Dovevamo fare l'Arena, di Verona, NDR, e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Asago a maggio, e non si farà più perché io sarò a Los Angeles, e non ha senso tornare per una data. Ho un sacco di altre cose da fare, ed era giusto chiudere 5 OSD con accento grave, ha raccontato Quindi probabilmente mi fermerò. Quanto mi fermerò? Non lo so, davvero non lo so, farò tante cose, ne ho tante in ballo, di sicuro per il tour non faccio più niente, ha aggiunto Il rapper già in una precedente intervista aveva confidato di volersi dedicare di più alla famiglia, e alla realizzazione di nuovi brani, motivando così la scelta di lasciare la poltrona di giudice a XF, A, C, T, O, R, aperte e virgolette Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la televisione per dedicarmi solo alla mia musica Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma d'ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello, aveva dichiarato Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la televisione per dedicarmi solo alla mia musica Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la televisione per la mia musica